Sono troppo contento, sì, perché ho fatto esame, per me non ho visto qualcosa difficile, perché tre mesi sto studiando questa cosa, allora venerdì scorso sono andato a Brindisi per fare esame, ho fatto facilmente, ho fatto solo due ore, sono troppo contento. Ecco perché molti italiani hanno la pelle scura, ecco perché molti italiani hanno i capelli scuri, ecco perché molti italiani hanno gli occhi scuri, ecco perché molti italiani hanno la pelle scura, Quando dobbiamo festeggiare? Quando dobbiamo festeggiare? E anche tu devi fare qualcosa per fare feste, no? Sì.